Omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime, omesse comunicazioni alle autorità, abbandono di incapaci, naufragio colposo. È la lista dei capi di imputazione per i quali Francesco Schettino è stato rinviato a giudizio nel processo la cui apertura è fissata al 9 luglio e che lo vedrà con ogni probabilità unico imputato per il disastro della costa Concordia.